Un segnale di pericolo è un tipo di segnale stradale verticale, solitamente a forma triangolare con uno dei vertici rivolti verso l'alto. Viene posizionato a circa 150 metri dal pericolo che segnala, ma se si trova a una distanza diversa, troverete un pannello integrativo al di sotto di esso che segnala appunto qual è la distanza a cui si trova il pericolo. Un segnale di questo tipo indica anche la natura del pericolo e quindi impone al conducente una particolare attenzione. I segnali con fondo giallo indicano ad esempio il lavoro in corso. I segnali di pericolo preannunciano una variazione della sede stradale in larghezza, pendenza o direzione, oppure possono segnalare la presenza di ostacoli come animali liberi oppure anche tratti che magari sono prettamente esposti all'azione del vento e quindi pericolosi. Possono preannunciare anche zone sdrucciolevoli, la presenza di rotonde, passaggi a livello o simili. In prossimità di tutti i segnali di pericolo, Gubela ti consiglia innanzitutto di moderare la velocità e attivare la visione periferica in modo da essere effettivamente pronti a reagire all'eventuale pericolo in essere.